green book non ti dice cosa devi pensare cosa devi ascoltare o vedere secondo me questo è un film questo è un invito a fare un viaggio a ridere a piangere si vuole e forse a riflettere sui limiti delle prime impressioni non è una reazione forzata è una bella storia condivisa del passato che può aiutarci a capire il presente grazie